Il Ministero della Cultura ha disposto, in procedura di somma urgenza, l'esecuzione dei lavori per la protezione dei resti archeologici presenti su una porzione del ciglio della falesia di Capocolonna. L'intervento provisionale, necessario e improcrastinabile a causa del violento nubifraggio che si è abbattuto sul promontorio nel novembre 2020, precede quello più ampio e definitivo da eseguirsi a cura della Regione Calabria e prevede la messa in opera di massi di varia grandezza al fine di proteggere dall'erussione marina le pareti della falesia e i resti murari presenti in sommità ma anche il santuario di Maria di Capocolonna. Tali lavori saranno anticipati da attività preventive di prospezione subacquea finalizzate alla tutela del patrimonio culturale sommerso, eventualmente presente sul fondale marino interessato dalla posa in opera dei massi e dalle lavorazioni ad essa attinenti. Le opere in somma urgenza sono state soggetto di concertazione tra gli uffici centrali e periferici del ministero della cultura d'intesa con il comando carabinieri tutela patrimonio culturale del nucleo di Cosenza. Soggetto attuatore è il segretariato regionale del ministero per la Calabria. Le attività preventive di prospezione subacquea programmate dal 15 al 18 marzo saranno condotte dal funzionario archeologo subacqueo incaricato unitamente al nucleo carabinieri subacquei di Messina.